Ci troviamo in questo meraviglioso panorama al Santuario della Verna nel Bosco di San Francesco insieme a Padre Francesco Brase e all'architetto Claudia Manenti per presentare una bellissima iniziativa che verrà fatta in occasione dell'anniversario degli 800 anni di San Francesco. Ricordiamo un po' con Padre Francesco innanzitutto come è nata questa iniziativa che è la realizzazione di una cappella all'interno di questo meraviglioso bosco. Sì, per il centenario delle stimate faremo tante cose, quindi dalle iniziative religiose, spirituali, culturali però volevamo anche lasciare un segno che rimanesse di questo tempo forte che stiamo per vivere. La Verna è una gemmazione continua di spazi perché all'epoca di San Francesco c'era solo la chiesetta di Santa Maria e ora siamo arrivati ad avere questo meraviglioso complesso di oltre un ettaro di superficie con la gemmazione nei secoli di spazi di accoglienza e spazi di preghiera. E allora ecco volevamo un po' sulla scia della nostra tradizione che ha visto in questo bosco nascere tante cappelle come quelle che ci circondano, cappelle per la preghiera, cappelle eremitiche. Ecco, ripensarne una nuova, la cappella del centenario delle stimate. Visto che da alcuni anni già la Verna collabora con il centro studi della Fondazione Lercaro di Bologna per il dialogo tra l'arte contemporanea e la liturgia, l'arte sacra, ecco allora è nata questa idea nata dall'amicizia con la Claudia di poter coinvolgere un team di giovani architetti per un percorso di formazione su che cosa è l'arte sacra, l'architettura sacra e poi ecco lanciare la sfida per ciascuno di loro di poter fare un progetto per realizzare questo spazio che possa accogliere ecco chi in questo bosco, e sono tanti, amano passeggiare, godere il silenzio, meditare e quindi ecco creare uno spazio atto a questa preghiera e che sia connotato come spazio cristiano. Una bella ricchezza inserita poi all'interno di questo anniversario degli 800 anni delle stimmate di San Francesco Sì, è una grande sfida ecco della quale stiamo vivendo i primi passi che ci riempiono di entusiasmo dopo un anno e mezzo di baghe burocratiche ancora finalmente ecco godiamo proprio di una fase più di laboratorio di incontro con questi giovani che sono veramente molto belli insomma. Ecco architetto, dal vostro punto di vista è bello ecco poter realizzare un lavoro come questo che peraltro rimarrà sicuramente per tutti coloro, tutte le persone che poi si recheranno che sono tante come ricordava anche Padre Francesco in questo luogo meraviglioso che è La Verna. Beh sì, diciamo che è un'operazione che si inserisce dentro quella che è l'attività ordinaria del Centro Studi per l'Architettura Sacra della Fondazione Lercaro che si occupa appunto di attualizzare un messaggio di realizzazione di un'architettura contemporanea un'architettura liturgica, un'architettura sacra contemporanea con il linguaggio appunto della contemporaneità. Questa iniziativa era partita già nel 1955 col Cardinale Lercaro, è stata ripresa dal Centro Studi attuale e quindi in questa linea ci inseriamo e proponiamo proprio ai giovani architetti un percorso formativo per proprio entrare dentro quello che è lo specifico della spiritualità cristiana e in particolare in questo caso della spiritualità della Verna. E quindi è molto bello poter coinvolgere un numero selezionato ma importante, c'è 30 architetti dentro appunto un percorso di approfondimento della spiritualità e di approfondimento dell'architettura liturgica. Quindi abbiamo fatto i primi tre giorni l'altro giorno qui a La Verna, è andato molto bene, proseguiamo con altri sette incontri e poi ritorneremo qui e in quel momento approfondiremo l'esatta ubicazione della cappella che andiamo a progettare. Quindi a livello di progetto ancora siete nella fase iniziale diciamo? Sì, siamo nella fase proprio di proposta di conoscenza di un luogo e di una spiritualità ad architetti che abbiamo selezionato su 69 richieste che sono giunte, ne abbiamo dovuti restringere a 30 perché non riuscivamo chiaramente a gestire così tante persone e quindi sono persone molto motivate perché il percorso è impegnativo già con in qualche maniera delle esperienze architettoniche importanti e quindi con un linguaggio architettonico già sviluppato a cui appunto andiamo a fare questa proposta e ci auguriamo che abbia un buon esito ma francamente su questo siamo abbastanza tranquilli. Ecco, architetto, qual è anche la particolarità di una cappella inserita in un panorama come questo, come quello del bosco? Beh, allora la Verna ha la caratteristica proprio di avere costruito appunto in questa gemmazione di spazi delle cappelle non solo legate proprio allo stretto vecinto del santuario ma anche nel bosco. Erano cappelle eremitiche, erano cappelle memoriali come la cappella del Faggio, la cappella del Beato Giovanni, la cappella della Penna o la cappella degli uccelli. Però ecco, noi vogliamo dare questo segno architettonico di architettura contemporanea riscoprendo un po' il ruolo della preghiera personale, quindi il luogo della preghiera personale. Dopo il Conceglio si è parlato molto di chiese, quindi luoghi per la liturgia e si è in qualche maniera un po' tralasciato, anche se comunque c'è una bellissima produzione in questi ultimi decenni di architetture, di cappelle per la preghiera personale, cappelle devozionali. Quindi ecco, andiamo a proporre un luogo diverso da quello della celebrazione ma collegato idealmente chiaramente a quello dove la comunità si trova e celebra. Per un lavoro storico così importante è naturalmente necessario e importante anche il contributo di alcuni partner. Sì, sicuramente. Ecco, noi godiamo da una parte di alti patrocini come quelli del Di Castero per la Cultura e l'Educazione di Roma, del Comune, della Fondazione Michelucci, della Chiesa di Bologna e molti altri. Poi soprattutto c'è il contributo di sponsor importanti che hanno creduto un po' in questo progetto, in questo sogno che ringraziamo come l'Avvocato Luca Cordero di Montezemolo, la famiglia Lebo Lebanci, Mario Carlamagni, la Fondazione Baracchi, Devozio, la Semar, 3M, la Chimet. Quindi soprattutto imprese e famiglie del territorio che sono legate alla Verna e hanno voluto dimostrare questo legame con questa generosa sponsorizzazione. Sicuramente serverebbe anche qualcos'altro, quindi se in ascolto ci sono anche delle realtà locali che vogliono impegnarsi in questa pazzia, siamo contenti e bisognosi di un aiuto. Architetto, ricordiamo anche chi ha dato il patrocino a questa bella iniziativa. Allora, innanzitutto va detto che questa iniziativa nasce in collaborazione, appunto, Centro Studi e Santuario, ma in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e la loro collaborazione è fondamentale proprio perché ci troviamo in un'area preziosissima del parco. E come enti patrocinanti e quindi che sostengono, diciamo, in maniera culturale la nostra iniziativa, abbiamo il di Castero della Cultura e dell'Educazione del Vaticano, l'Ufficio Nazionale per i Beni Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della CEI, poi abbiamo l'Ordine degli Architetti di Bologna, che quindi garantisce anche i crediti formativi agli architetti, la Federazione dell'Emilia Romagna degli Architetti, poi abbiamo il Comune di Chiusi della Verna, entro cui il territorio siamo, ma anche la Diocesi di Arezzo, che chiaramente parte in causa, la Diocesi di Bologna e poi delle realtà culturali come il Museo San Fedele di Milano e la Fondazione Giovanni Michelucci. Quindi ecco, diciamo che abbiamo il sostegno, l'appoggio e lo sprone da parte di diverse realtà di grandissima importanza, sia locale che nazionale.